E poi siccome a Busana c'era una radio, ci portarono a Busana e mi ricordo che ascoltammo il discorso del Duce da Palazzo Venezia, proprio che poi l'ho rivisto mille volte alla televisione, insomma, quel testone alla finestra, dal balconcino lassù, dal balcone Palazzo Venezia, che poi c'era la gente che applaudiva sotto, insomma, no? E tu cosa pensasti? Eh, pensavo, pensavo che è scoppiata la guerra, non è che facevi molte considerazioni a quell'età lì, ecco. Quanti anni avevi? Eh, avevo, è successo nel giugno del 40, perciò avevo 13 anni e mezzo, insomma, perciò che considerazioni puoi fare, dopo aver avuto un'educazione di quel tipo lì, insomma, ecco. E allora questi ragazzi andarono dentro la sede del fascio e buttarono giù tutto dalla finestra, era al secondo piano, e allora i quadri di Mussolini, che allora c'era stato un rispetto fino allora, e vederli nella polvere, nella strada, che allora le strade non erano asfaltate, no? E quella è stata la prima, la prima svolta. Grazie a tutti.